E' stato accolto dal primo ministro britannico David Cameron al numero 10 di Downing Street il premier turco Ahmed Davutov. Il conflitto in Siria ed Iraq, le misure contro il terrorismo sono al centro di un vertice bilaterale accolto dalle proteste di numerosi manifestanti che accusano la Turchia in particolare nel quadro del conflitto con i kurdi.